Musica Quando si parla di amianto si sa, l'argomento è molto delicato, tocca la sensibilità e l'animo di tante persone. Il problema amianto è una spina nel fianco che afflitto e affligge tutt'oggi la nostra intera penisola. Ma per noi avellinesi, quando si parla di amianto, è come se fosse una questione di cuore, una spina nel cuore. Ed ecco che ogni qualvolta si ritrova a dover parlare di amianto preso ed abbandonato in mezzo ad una strada, è sempre un colpo al cuore. L'ultimo avvistamento c'è stato nel corso della registrazione di servizio a domicilio. A Mercogliano, su una strada che fino a qualche anno fa era una vera e propria groviera, l'amministrazione comunale ci ha messo una pezza, nel vero senso della parola, riasfaltandola e rimettendola a nuovo, rendendola una strada percorribile e fruibile a tutti. Purtroppo, proprio a tutti, anche agli incivili. I lati di questa strada stanno diventando in breve tempo di scariche a cielo aperto, dove però, oltre ai soliti rifiuti, qualche indefinibile cittadino ha ben pensato di abbandonare anche bustoni neri, pieni di amianto. Tre bustoni che con il tempo stanno diventando tutt'uno con il terreno, il che fa pensare a due cose, o che quelle busse stanno lì da molto tempo, tanto da far crescere erbacce e quant'altro sopra, o, cosa ancora più grave, è che farà brividire che chi ha buttato lì quelle busse ha consapevolmente provato ad interrarle. L'unica cosa certa è che quelle buste contenenti pezzi di vecchie tettoie in amianto lì non possono rimanere e non devono rimanere. Il nostro appello va alla sempre Solerte, amministrazione comunale di Mercogliano, che siamo sicuri, una volta visti i nostri servizi, si attiverà per rimuovere quella vergogna dalla strada.